E' semplice e semplice, così l'aiutiamo. Io vado, a quell'altezza giro a sinistra perché abbiamo il labbra che va davanti, lascio la ciotolina per terra, tu aspetti l'io torno, quando l'io torno ti dai una parola, cerca, prova, puoi essere pure vai, e a terra lascerò il premesso. Ogni qualche volta che si ferma e lo mangia gli dici che è bravo, come neanche bagliano, io la fai capito la cosa che sono perocente, e poi alla fine lo fa la ciotola, ok? La pazienza è goloso. Non ti preoccupare, magari per l'autocratificazione lo mangia, eh? Non ti preoccupare, guarda, lo fermo prima, non te lo preoccupare. Ai carrelli, anche prima. Che sta facendo? Che sta facendo? Che puoi... Simona, scusa, che puoi dire all'albrador se sta vicina che ci sono i premietti, dopo glielo facciamo fare anche a lui? Scusa, eh, grazie. Scusa, bravo, 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 bravo. Ovviamente ha aiutato, eh? Però, ci sta. Molto bravo, e se ne è fregato anche dell'albrador. Assolutamente. Cos'è di dire questo? Una gratificazione finale? Sì, sì, io faccio anche a lui, grazie. Questo conta. Bravi. Grazie.